Sempre bellissime e impeccabili davanti alle telecamere o ai flash dei fotografi, eppure anche le celebrità devono faticare e prendersi molta cura di se stesse per apparire sempre al top e molto spesso pubblicano sui social network, su Instagram, gli scatti dei lavori in corso. I personaggi VIP pare che amino prepararsi e farsi vedere come diventano icone di bellezza e sensualità, partendo ad esempio da Elena Santarelli che sul proprio profilo Facebook si mostra nel momento del trucco e di perfezionamento fisico, ma non solo, il suo blog Lady Santa è pieno di consigli anche su come vestirsi e sugli accessori più trendi. In realtà, la bella modella ora si è evoluta, è stata tra le bellezze patinate dei primi anni 2000, poi si è allontanata da quell'ambiente, prendendosi il tempo di studiare prima di riproporsi sul palco. Tant'è vero che ha riscosso successo il suo tour teatrale con Massimo Ghini, entrambi l'hanno portato in scena quando la moglie è in vacanza, già il mitico film di Billy Wilder con Marilyn Monroe. Nel Merino non solo teatro e la carriera, ma anche un matrimonio. Dopo sette anni di amore, colonati dalla nascita del piccolo Giacomo, Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sposeranno. La notizia era ormai nell'aria, ora è ufficiale anche la data e le nozze si celebreranno il 2 giugno 2014 a Bolgo San Felice, città dell'ex calciatore. Grazie per la visione!